Energia, impresa e spazio. Sono cinque gli accordi tra Italia e Algeria firmati in occasione della visita ufficiale del paese nordafricano del presidente del consiglio Giorgia Meloni. Una due giorni ad Algeri che ha permesso di celebrare il ventismo anniversario della firma del trattato di amicizia, cooperazione e buon vicinato tra Italia e Algeria e sottolineare l'eccellenza delle relazioni tra i due paesi. L'Algeria è un partner affidabile e strategico, ha detto il premier al termine del bilaterale con il presidente algerino Abdelmajit Tebun. Algeri è il principale fornitore di gas dell'Italia e la cooperazione energetica si estende anche alle rinnovabili. In questo ambito sono state fermate due intese tra Eni e l'omologa algerina Sonatrac per ridurre le emissioni di gas sera e incrementare le esportazioni. Nel corso della conferenza stampa congiunta con Tebun, Meloni ha definito l'Algeria un partner fondamentale per il piano Mattei per l'Africa, basato sul rapporto di collaborazione e per trasformare le tanti crisi in possibili occasioni. Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo che da giorni imperversa sull'Italia. Temperature impicchiate e vento gelido, ma soprattutto neve già al di sopra dei 400 metri su Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte o a quote poco più alte su Toscana, Umbria e Marche. Venti forti e raffiche di burrasca forte flagellano i settori costieri di Veneto, Friuli, Venezia Giulia, con mareggiate lungo le coste. Pericolo valanghe sulle Alpi, Lombarde e sulle Dolomiti Venete. È scattata l'allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Scuole chiuse nel Riminese e nell'Aquilano. In Toscana, salvati alcuni escursionisti in difficoltà sul Monte Falco, sorpresi da una bufera di neve. Le previsioni meteo non promettono particolari miglioramenti per i prossimi giorni. Dal nord Europa e dalla Russia sono in arrivo per l'intera settimana correnti d'aria fredda che colpiranno in particolare centro e nord Italia. Sempre più italiani, secondo l'osservatorio sul precariato dell'Inps, non sono più disposti a tenersi un'occupazione sgradita pur di incassare uno stipendio. Una tendenza già nota in altri paesi. Nei primi nove mesi del 2022, oltre 1.600.000 persone in Italia hanno abbandonato il lavoro, con una crescita del 22% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Molti lavoratori rientrati dallo smart working dopo il Covid, dopo aver sperimentato i benefici del lavoro da casa, con pochi orari e senza il fiato sul collo del capo, non sono disposti a tornare dietro alla vecchia scrivania. Ma c'è di più. I giovani in particolare, attratti dal miraggio di mettersi in proprio, rinunciano a contratti sottopagati e demansionati rispetto al loro titolo di studio. Meglio aspettare la prossima occasione che vivere infelici, precari e con pochi soldi in tasca. I settori più interessati da questo trend sono quelli legati alle nuove tecnologie. Entro marzo vedrà alla luce la riforma fiscale voluta dal governo Meloni e alla quale sta lavorando il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Quattro i punti centrali. I principi generali, la revisione delle imposte, i procedimenti e i testi unici, in questo caso con l'obiettivo di arrivare alla sesura del codice tributario. Occhi puntati in particolare sulla revisione dell'IRPEF. L'obiettivo è ridurre a tre le aliquote, 23,27 e 43%, ferma restando la necessità di individuare le dovute coperture, ha sottolineato il vice ministro. Altra voce è l'introduzione del quotiente familiare. In ottica futura, obiettivo del governo resta la flat tax, un'aliquota fiscale unica per tutti, lavoratori dipendenti e autonomi che già ne beneficiano, fino a un limite di reddito di 85 mila euro. L'ipotesi che circola è una tassa piatta al 15%. Altre misure della riforma fiscale dovrebbero riguardare Ires e Irap. In particolare, la volontà dell'esecutivo sarebbe quella di abolire l'imposta regionale sulle attività produttive. Grazie. Grazie.